Ciao a tutti ragazzi, mentre sto registrando questo video sono le 5 e quindi mi sono fatto il mio tè. Mentre facevo il tè ho riflettuto su alcune cose, una di queste è togliere il video di Tex sul Texone perché c'era uno strike per violazione del copyright negli ultimi 10 secondi del video. Mi stupisce e mi fa anche un po' sorridere la cosa visto che non mi hanno fatto lo strike per il fatto che ho usato Tex dei Litfiba per tutta la durata del video ovviamente modificandoci intonazione, togliendoci la voce di Piero Pelù eccetera eccetera però me l'hanno fatto con una canzone che avevo preso all'interno del catalogo senza copyright quindi free use di YouTube quindi vabbè. Di solito faccio reclamo, comunque ricorso per queste cose, non me la sento di farlo questa volta perché all'interno del video qualcuno di voi mi ha fatto notare che c'era un errore all'interno della introduzione. Io ho letto nel Texone, come potete vedere qua, perché ce l'ho qui, ho letto l'articolo, eccolo qua, di Graziano Frediani dove vengono citati i numeri che ho citato all'interno del video dove Claudio Villa insieme a Claudio Nizi hanno parlato del ritorno di Mephisto. Come potete vedere l'articolo è questo qui e i numeri, vedete, sono quelli citati qua. In realtà alcuni di voi mi hanno fatto notare che non sono quelli i numeri. I numeri citati sono, invece che dal 401, come ho detto io, sono dal 501 in poi. Io sinceramente non sono un grandissimo appassionato di Tex, ho letto qualche storia, come dico anche nel video, mi sono approcciato da poco al personaggio, mi sono informato per parlarvi di questo Texone ma io sinceramente volevo parlarvi della storia in sé, di, insomma, tutta la storia editoriale di Tex, non mi sono informato per il semplice fatto che, insomma, non mi interessava. Io volevo parlarvi di questo Tex e di alcune storie che avevo letto in passato, nulla più, nulla meno. Mi sono affidato a quello che c'era scritto all'interno del Texone perché dentro di me mi sono detto se una persona ha scritto un articolo, anzi un'introduzione per questo Texone che è importantissimo sicuramente saprà il fatto suo e quindi sicuramente, insomma, sarà veritiero, no? Mettiamolo in questo modo. Ci può stare però che abbia fatto un errore, non lo vedo, insomma, possibile perché penso che andrebbero comunque revisionati, diciamo così, gli articoli prima di essere approvati, però, insomma, non so veramente cosa dirvi oltre questo. Anche perché, ci tengo a fare un piccolo inciso, ultimamente vedo youtuber che fanno della parola recensione un po' troppo un uso a sproposito. Anch'io uso la parola recensione, ma perché la uso? Perché essendo un canale comunque non grandissimo ma abbastanza piccolino, la maggior parte degli utenti di YouTube non guardano un video se non c'è scritto recensione, ma in realtà quello che faccio io esattamente come quello che fanno molti altri sul tubo è dare i propri pareri rispetto a una storia. Ci si crea un pubblico, degli iscritti che comunque ti seguono e ti seguono perché magari vogliono sapere tu che cosa ne pensi, diciamo, di quella determinata opera perché magari sono più affini verso di te con i gusti e vedono che leggete le stesse cose quindi magari si fidano del tuo parere. Però le recensioni vere e proprie, ragazzi, sono quelle che spesso vedo sui blog, sulle varie webzine tipo Red Capes, tipo, insomma, ce ne sono una marea, ok? Quelle, anzi la maggior parte di quelle che vedo su YouTube, sono semplicemente lettori, esattamente come lo sono io, che vi dicono questo fumetto mi è piaciuto, vi raccontano la trama, vi danno un parere sui disegni, ma secondo me le recensioni sono un'altra cosa. Fatto questo breve inciso, ci tenevo solamente a dare questo mio pensiero e a dirvi che il video di Tex verrà riregistrato solo la parte iniziale dove c'era questo errore, correggerò poi l'ultima canzone in modo tale che saremo a posto con il copyright e verrà ricaricato tranquillamente su YouTube. Detto questo, io vi saluto dalla sala di casa mia e da questo fantastico tè all'arancia e cannella e tutto. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e lasciatemi un mi piace al video se questo video vi è piaciuto, tanto penso si autodistruggerà una volta che verrà ricaricato il video di Tex. Io vi saluto e guarda, non faccio neanche il montaggio, vi saluto così. Bye bye!